Sapevi che la monaca di Monza era una suora italiana condannata ad essere murata viva? La sua storia è una spirale di passione, peccato e mistero. La giovane Marianna Deleiva fu condotta dal padre contro la sua volontà in un convento. Trasformata in suor Virginia e a 16 anni in monaca, la sua vita sembrava destinata a un cammino di fede e rinunce. Si innamorò di un giovane di nobili origini, Giampaolo Osio. La loro relazione proibita gettò una luce sinistra sul convento e sconvolse la tranquillità delle suore. Questa storia intrisa di passione e desiderio macchierà il suo destino. Infatti, questa passione sfociò in una terribile penitenza. Suor Virginia, la monaca di Monza, fu condannata a essere murata viva in una stanza di un metro per tre metri, per 14 anni. Non portò ad altro che a far crescere il suo tormento interiore. La sua notorietà è dovuta soprattutto al romanzo I promessi sposi, nel quale Alessandro Manzoni si ispirò alla storia di questa vicenda. Il suo mistero persiste, intrecciato con il passato oscuro dell'Italia rinascimentale.